Sì, perché c'è la cameretta qui a vicino, non ha la pozzonetta? Cosa dico? È diversa la dark e tutte cose. Ma invece mette la cameretta, ci voglio delle arinde, capisci? C'è potuto mettere delle arinde, se ce la voglio mettere. Cosa dico? E' buona, non c'è buona, non c'è buona. E no, hai capito? Voglio mettere la casa, se vado là. Sì, non c'è un po' di me mette, perché non c'è la forza, non c'è la forza? Cosa dico, cosa dico. Fai un po' di me.